La prima nevicata abbondante è coincisa con le prime aperture degli impianti di risalita nelle aree montane della provincia di Pesaro Urbino. Montagne che nel weekend sono tornate ad ospitare centinaia di visitatori per godere di paesaggi innevati e per rimettere gli sci ai piedi. Attività che negli ultimi due anni erano state quasi azzerate. Sicuramente la pandemia, soprattutto l'anno scorso, per quanto riguarda le aperture degli impianti purtroppo non l'ha permessa e l'anno precedente invece è stata colpa delle poche precipitazioni quindi veniamo da due anni in cui effettivamente l'economia legata al discorso neve è risultata pari a zero. Quindi è chiaro che se quest'anno si riuscisse in qualche maniera a dare un po' di ossigeno a quelle attività che vivono di questo tipo di sport sicuramente sarebbe positivo per tutti e anche perché la ricaduta chiaramente non è solamente per chi gestisce gli impianti ma l'indotto poi va su ristoranti, alberghi, bar eccetera quindi è chiaro che è importante, molto importante e questa prima neve lascia ben presagire anche se purtroppo l'impianto di Passo Cantoniera non è stato aperto questo weekend quello invece dell'Ermo di Monte Carpegna è stato aperto ed è stato anche fruito da tanti visitatori, da tanti sciatori. Impianti attivi a Carpegna mentre sul Nerone lo saranno dal 13 gennaio e lo si farà con Green Pass rafforzato, obbligatorio per accedervi come impone la nuova norma in vigore da oggi. Restrizione a parte, si tratta di un'altra importante boccata d'ossigeno per attività ripartite come il rifugio Chalet Principe Corsini sul Monte Nerone. L'affluenza di gente è stata molto molto importante la neve caduta sicuramente aiuta molto a portare la gente dalla costa però anche senza neve diciamo che magari un po' il rifugio ma anche questo fatto del coronavirus ha fatto riscoprire a molti la montagna. Dopo l'inaugurazione che abbiamo fatto a giugno adesso arriverà il primo inverno con il nuovo rifugio Chalet Principe Corsini e siamo pronti per partire questa settimana molto brevemente apriremo gli impianti e di conseguenza anche il rifugio.